Via Taulero assieme a Via Latini a Piazza Dante diventerà il salotto buono di Roseto. Il Comune ha dato il Via Libera al progetto esecutivo di riqualificazione di Via Taulero con una serie di interventi per un importo di circa 167 mila euro. A stretto giro si procederà con la gara d'appalto relativa al piano di intervento che prevede una riqualificazione del tratto che va dalla ferrovia al mare più il raccordo con il lungomare Celommi e una nuova illuminazione per il tratto già realizzato. Con questi lavori si andrà inoltre a ripavimentare il tratto dal sottopasso al lungomare centrale a rifare il sistema di raccolta delle acque piovane e a inserire nuovi arredi urbani con una nuova illuminazione a led prevista la sistemazione di un particolare luminoso l'albero di Guzzini che verrà collocato nell'aiuola del lungomare che riprodurrà un albero da cui spunteranno tante luci per un suggestivo colpo d'occhio all'imbocco della via centrale di Roseto. Il progetto prevede anche elementi di seduta e un attraversamento pedonale ciclabile rialzato che presenterà una moderna segnaletica verticale e orizzontale questo significa che si andrà a realizzare una sorta di via di accesso tra la statale e il mare per dare anche maggiore importanza alle attività di una strada che si è trasformata nella via della movida rosetana. Il piano esecutivo dell'intervento è stato approvato grazie alla parere favorevole della soprintendenza è evidente, ha spiegato il sindaco Sabatino di Girolamo, che la programmazione di questi lavori che puntano a dare prestigio alla città e a offrire una bella cartolina per il lungomare centrale di Roseto a beneficio degli operatori turistici di quell'area apre di fatto anche alla scelta di pedonalizzare completamente via Taulero una decisione finalizzata a preservare i lavori e i fruitori della via ma anche una logica conseguenza visto che accanto a via Taulero ci sono altri sbocchi stradali che possono ben garantire e sostenere la viabilità sui tempi dei lavori il comune subito dopo l'assegnazione delle opere valuterà se iniziare immediatamente e concluderli prima della stagione turistica oppure rinviarli a dopo l'estate per non creare disagi in un periodo dell'anno in cui Roseto triplica la propria popolazione tutto dipenderà dall'approvvigionamento dei materiali